buongiorno telespettatori di noli croci caccia e pesca siamo tornati alla fuenna dopo due settimane di intensa pasturazione ora vedremo se scappa fuori qualche altra cosa siamo pronti per il remake vediamo un po' se si aggaggia qualche nutria solo che a differenza questa mattina ci sa dunane che manca al mercato così belle si comprano pronti andiamo bello salò il chiappo è stato un po' se si aggaggia ma che è stasera Oh, non ho vevole, non ho vevole, non ho vevole, non ho scappato. C'è qui le zanzare mi mangiano. Ma che cosa? Si. No, no, quello mi piace. Quello vivo. Ma l'ho parte. L'ho chiamato lui. No, no, che sfida. No ragazzi, non è un fagiano. Purtroppo no. Anche se è sempre stato il nostro sogno prendere un fagiano all'ambo, prima o poi ci riusciremo. Madonna, che merda. Ma oggi si chiama queste poste. Non le veste. Madonna che merda però. Non mi piace. Faccio un saluto. Non mi piace. Non mi piace. No, non mi piace. E' way orta tutte. Non mi piace. Non mi piace. So. Grazie.